Molti di noi abbiamo bisogno di tempo, di libertà, per ritrovare noi stessi, per ritrovare al di là del devo, del voglio, del mi piace, non mi piace, del giudizio su di noi, degli strattonamenti, per ritrovare noi stessi in una maniera libera, per imparare ad ascoltare. Datevi un tempo di libera uscita, datevi un tempo durante la giornata. Senza nessun obiettivo, lasciatelo vuoto quel tempo, non riempitelo con niente. Vedrete elevarsi da quel vuoto la vostra motivazione interiore. Nasce dal silenzio, nasce dalla quiete, nasce da tutto ciò che nella vita quotidiana non abbiamo. abbiamo. Grazie a tutti.